Un altro metodo per verificare se l'ipotesi nulla va rifiutato o meno è quello di calcolare il p-value, il p-value anche detto livello di significatività osservato. Diamo una definizione teorica di questo p-value, il p-value sarebbe la probabilità che il possibile rifiuto dell'ipotesi nulla sia solo dovuto al caso. Poniamo caso di voler verificare se il reddito medio delle famiglie di Milano è significativamente diverso da 1.500€, quindi l'ipotesi nulla è H0, mu uguale 1.500, ipotesi alternativa H1, mu diverso da 1.500. Poniamo caso di aver estratto un campione che casualmente è costituito dalle famiglie più ricche di Milano. In questo caso avremo che il reddito medio delle famiglie di Milano nel campione è significativamente maggiore di 1.500, per cui rifiuteremo l'ipotesi nulla, ma questo rifiuto è solo dovuto al caso, cioè è solo dovuto alla casualità del campione che ho estratto dall'universo, che non rispecchia perfettamente la situazione reale dell'universo. In quanto le famiglie del campione sono tutte ricche, ma nell'universo non è effettivamente così. Infatti esistono nell'universo le famiglie di Milano sia povere che ricche. Invece nel nostro campione, casualmente, abbiamo pescato la maggior parte delle famiglie ricche. Quindi il p-value indica proprio questa probabilità. La probabilità che il possibile rifiuto dell'ipotesi nulla sia solo dovuto alla casualità del campione coestratto, che non rispecchia la situazione dell'universo. Nella pratica, invece, il p-value sarebbe la probabilità di osservare valori più estremi della statistica test osservata. Adesso vediamo nella pratica come si calcola il p-value. Quindi, poniamo caso di avere un'ipotesi alternativa unilaterale sinistra, con un livello di significatività α uguale a 0,01. Poniamo caso di aver osservato nel nostro campione una statistica test uguale a meno 1,68, questa cadrà nella regione di accettazione. Ora, il p-value è la probabilità di osservare valori più estremi della statistica test osservata, in questo caso meno 1,68. Quindi valori più estremi significa valori inferiori, in questo caso a meno 1,68. Il p-value sarebbe quindi l'area che va da meno infinito fino a meno 1,68, che sarebbe l'area che ho colorato non perfettamente in celeste, in questa figura. Come calcolo quest'area qui? Quest'area qui sarebbe il valore della funzione di ripartizione in corrispondenza di z uguale a meno 1,68. Quindi vado sulla tabella della funzione di ripartizione della normale standardizzata e vado a cercare il valore dell'area in corrispondenza di meno 1,68. Quindi sulla riga meno 1,6 e sulla colonna 0,08 e ottengo un valore uguale a 0,0465. Questo è il p-value in questo esercizio. Il p-value va confrontato con alfa per verificare se l'ipotesi nulla va rifiutata o meno. Quindi se il p-value è maggiore di alfa, non rifiuto l'ipotesi nulla. Se invece il p-value è minore di alfa, rifiuto l'ipotesi nulla. In questo caso il p-value uguale a 0,0465 è maggiore di alfa e quindi non rifiuto l'ipotesi nulla. Tra l'altro questa cosa qui, questa conclusione, ce l'evidenzia anche la statistica testa osservata che cade nella regione di accettazione. Quindi possiamo effettuare la verifica di ipotesi sia attraverso il confronto dei valori di z, sia attraverso il confronto tra le aree, quindi il p-value ed alfa. Difatti se z di x medio fosse caduta nella regione di rifiuto, allora avremmo avuto un p-value inferiore al valore di alfa e quindi avremmo rifiutato l'ipotesi nulla. Vediamo un esempio con l'unilaterale destra. In questo caso la regione di rifiuto sarà nella coda destra. Poniamo caso di aver osservato un valore della statistica test nel nostro campione uguale a più 1,68 e cade nella regione di accettazione. Il p-value ha la probabilità di osservare i valori più estremi, in questo caso di più 1,68, quindi valori superiori a più 1,68. Quindi da più 1,68 a più infinito. Come calcolo quest'area qui? L'area che va da più 1,68 a più infinito sotto la curva normale sappiamo che è uguale all'area che va da meno infinito fino a meno 1,68, in quanto la curva è simmetrica. Quindi basta calcolare il valore della funzione di ripartizione in corrispondenza di z uguale a meno 1,68. Quindi per il calcolo del p-value, quando la statistica test osservata è positiva, devo considerarla come negativa e poi calcolare il p-value. Quindi la statistica test osservata per il calcolo del p-value va considerata sempre come negativa. Quindi vado in corrispondenza della tabella e trovo in corrispondenza della riga meno 1,6 e della colonna 0,08 sempre il valore 0,0465. Quindi anche in questo caso il p-value 0,0465 sarà maggiore del valore di alfa uguale a 0,01 e anche in questo caso non rifiuto l'ipotesi nulla. Sarebbe la stessa cosa vista per l'unilaterale sinistra, qui la vediamo sulla destra. Nell'ipotesi alternativa bilaterale invece avremo due regioni di rifiuto pari ad alfa mezzi. Poniamo a caso di aver osservato una statistica test uguale a più 2,80 che cade nella regione di rifiuto in questo caso. L'area che va da più 2,80 a più infinito, quindi l'area evidenziata in celeste, in questo caso non sarà il p-value, bensì sarà il p-value mezzi, cioè il p-value diviso 2. Questo perché il p-value va confrontato con il valore di alfa. Se vogliamo confrontare queste due code, in realtà confronteremmo il p-value mezzi con il valore di alfa mezzi. Per confrontare il p-value con il valore di alfa, dobbiamo moltiplicare questa area per 2. Quindi calcoliamo prima questa area e poi la moltiplichiamo per 2. Il valore della statistica test è uguale a più 2,80 e quindi è positivo. Come al solito devo trasformarlo in negativo per calcolare il p-value. Quindi considero meno 2,80 e vado sulla tabella della funzione di ripartizione, in corrispondenza di meno 2,80. Trovo un valore uguale a 0,0026, lo devo moltiplicare per 2 per ottenere il p-value e ottengo quindi 0,0052. Questo p-value posso confrontarlo con il valore di alfa uguale a 0,01. Quindi il p-value sarà inferiore ad alfa e in questo caso rifiutiamo l'ipotesi nulla, come tra l'altro ci evidenzia questa statistica test che cade nella regione di rifiuto. Quindi per il calcolo del p-value si considera sempre il valore di z come negativo. Nell'ipotesi alternativa unilaterale il p-value sarà la funzione di ripartizione in corrispondenza di z di x medio, considerato però come negativo. Nell'ipotesi alternativa bilaterale invece, il p-value sarà il valore della funzione di ripartizione in corrispondenza di z di x medio, considerato come negativo, però questo valore devo moltiplicarlo per 2. Per quanto riguarda invece la t di student, il calcolo del p-value per la t di student è complesso. Solitamente negli esami lo si calcola attraverso la funzione di ripartizione della normale standardizzata. Però il calcolo non sarà preciso, quindi questa sarà soltanto una approssimazione. In questo caso la statistica test è uguale a meno 1,92 t di x medio, quindi anche qui se è negativa la lasciamo negativa, se invece la statistica test è positiva la consideriamo come negativa. Se l'ipotesi alternativa è bilaterale poi moltiplichiamo il valore che otteniamo sulla tabella per 2. In questo caso l'ipotesi alternativa è unilaterale, t di x medio uguale a meno 1,92, vado sulla tabella dalla funzione di ripartizione della normale standardizzata. In corrispondenza della riga meno 1,9 e della colonna 0,02 ottengo 0,0274. L'ipotesi alternativa è unilaterale, quindi non occorre moltiplicare il valore per 2 e quindi confronto questo p-value con il valore di alfa che qui era uguale a 0,01. Quindi il p-value è maggiore di alfa, per questo non rifiuto l'ipotesi nulla. Come possiamo vedere il p-value in questo caso si approssima a questo valore qui, in quanto l'abbiamo calcolato attraverso la funzione di ripartizione della normale standardizzata. Quindi non è un calcolo preciso, però questo è solitamente il calcolo che viene effettuato negli esami di statistica inferenziale. Quindi non è un calcolo preciso, ma non è un calcolo preciso, ma è un calcolo preciso, ma è un calcolo preciso. Grazie. Grazie.